Che bella stagione e le nocchie cominciano a poppare, si oggi si stanno, allora questi mi li ho seminati qualche anno, guardate quant'è, ce ne stanno già un alberi di nocciolo e questo ogni anno aumenta la produzione, si seminano a raccoglie, solo alberi di nocciolo qua, guardate, il resto è prato e quindi ho fatto a distanza di tre metri da lì in sotto tutto terreno mio, quindi dovrebbero essere, beh facciamo un conto approssimativamente, là quelli sono 80 metri e saranno 1500 metri quadri in sotto, qui c'è l'altro mio terreno, bella giornata, domani forse vado a Poggio Valle, Prince di Rieti, vicino Nesce, andate e ritorno sarà circa durante i giorni, però la Poggio Valle sicuramente prosegue per Nesce e vediamo qua il filare, guardate quanto so bello, poi non ho bisogno di nessun trattamento, qua il terreno è più lungo, un po' più grande, ecco, passa un'auto transitata sulla variante, ecco un altro alberi, guardate qui quanto so bello, crescono e producono ogni anno sempre di più, poi è un acciolo, a casa si consumano, amici e parenti, i veri amici, eppure regalo a qualcuno, a chi mi rispetta, eh, a chi non mi rispetta, niente, ecco l'altra fila di un acciolo, qui sono andata una portata da qui, vicino al compiene, quindi questi rami li devo togliere, e c'è una cosa, fai alberi nocciole mamma che crescono, questo è per tre quattro anni, praticamente qui sotto con l'ombra non cresce l'erba, pochissima, si pulisce da sola, chi va a vedere qui non c'è l'erba, qui anche c'è poca, poca roba, il piacere di contemplare il mio terreno, di pensare ai prodotti della terra, frutta secca e nocciole, l'anno scorso è qui purtroppo in maltempo, pochissime nocciole, tra gli altri anni ho sempre raccolto, e qua c'è una noce, questo è qualche animale, a proposito, queste sono le nocciole dell'anno scorso, l'anno scorso è stata una stagione avversa, praticamente lo sbassamento di temperatura, quando le nocciole si stanno per maturare, è bloccato la crescita, i gusci, tutti vuoti, non è successo solo a me, è successo in tutta la marzo, ma anche in gran parte dell'Italia, quest'anno non ce ne sono, la stagione si presenta bene, almeno fino adesso, siamo a marzo, però tutto può succedere, ecco un'autotraina che quantità sulla strada brunciale, qui si vede un albero di pruni, eh, fiori gialle, migliora,